La Chiesa del Suffragio si apre nuovamente al pubblico anche in questo anno particolare per l'edizione 2020 dei Segreti del Suffragio, iniziativa organizzata da Carlino Bertini, priore della confraternità di Fano, in collaborazione con Stefano Bramucci. Abbiamo voluto continuare anche in questo anno difficile per non perdere la tradizione. Abbiamo diminuito le serate ma la qualità è sempre quella. Abbiamo peccato in quantità ma la qualità resta. Il programma delle serate che vanno dal 24 al 31 agosto a partire dalle 21 e 15 si costituisce come un itinerario che passa dalla storia all'astrologia alla cucina all'arte e coinvolgerà numerosi esperti e relatori. Faremo otto giorni di attività, otto serate di attività culturali. Anna Manfredi che parlerà di astrologia. Rolando Ramoscelli di San Costanzo che ha un ristorante a San Costanzo, la trattoria dialettale. Quindi sono piatti del nostro entroterra. Sarà presente anche il dottor Luca Imperatori, grande conoscitore di erbe medicinali, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio all'interno della fitoterapia per comprendere come utilizzare particolari tipologie di piante a scopo curativo. A completamento di questa serata, nel mese di settembre, faremo delle uscite per raccogliere le erbe e per conoscere le erbe, naturalmente aperte a chi vuol venire. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anticontagio. Nonostante l'ingresso sia libero, infatti, i posti disponibili per partecipare all'iniziativa sono solamente 50. E per questo abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari, cioè distanziamento da un posto all'altro, obbligatoria la mascherina, la igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura. Grazie